buongiorno a tutti benvenuti a questo webinar demo che abbiamo organizzato a seguito di una promo che è stata proposta da ansys e declinata poi sui nostri clienti engine soft legata alle tecnologie ansys granta in particolar modo ad ansys granta selector io sono silvia di rosa forse alcuni di me di voi mi hanno già conosciuto in qualche altro evento engine soft sono riferimenti in azienda per le tecnologie legate appunto ai materiali e quindi specificatamente ad ansys granta e la scelta della mia persona è stata un po come dire forzata nel senso che sono penso l'unico ingegnere dei materiali in engine soft e dedico 30 secondi a descrivermi sono vengo da una lunga esperienza nel gruppo fiat come progettista meccanica poi come responsabile di un gruppo che si occupava specificatamente delle tecnologie legate ai low volume vehicles e quindi lavoravamo specifici prevalentemente per ferrari e per maserati e dal 2013 mi pare sono in engine soft azienda nella quale ho ricoperto diversi ruoli e negli ultimi due anni oltre a seguire dei nostri clienti per la parte di supporto tecnico e essere coordinatori di alcuni progetti di ricerca seguo appunto le tecnologie granta l'idea di questa ora è di introdurre a quello che sarà poi lo strumento che avete a disposizione con licenza trial per un mese e al termine del quale poi avrete poi tutte le come dire le indicazioni e le condizioni necessarie per capire se è uno strumento che in azienda potrebbe effettivamente aiutarvi e migliorare i vostri processi interni e quindi io faccio una breve introduzione sulle tecnologie granta ma un focus veramente veloce per poi focalizzarmi su quello che potete fare con il granta selector presentandovi anche alcuni casi sono strumenti piuttosto semplici come utilizzo e io vi confermo già ad ora il mio supporto nel momento in cui avrete la trial a aiutarvi a portare avanti i vostri test e i vostri progettini e vi chiedo eventualmente di scrivermi un'email di introdurmi un po anche quali sono le difficoltà che vi trovate ad incontrare poi facciamo una call successiva se non il giorno stesso il giorno dopo per capire insieme come impostare il progetto o come risolvere le problematiche che vi trovate ad affrontare granta è proprio due parole è una società che è stata fondata da questa persona qui che il professor ashby ancora in vita adesso ha più di 90 anni ed è un nome piuttosto noto tra gli ingegneri dei materiali e anche alcuni ingegneri meccanici che hanno fatto dei corsi di materiali durante il loro percorso di studi perché è colui che ha inventato le mappe di ashby e che prendono appunto il suo nome e sono sostanzialmente delle mappe che per la prima volta hanno rappresentato le proprietà di materiali in uno spazio x y definito in maniera personalizzata e in funzione appunto delle proprietà che andiamo a definire a descrivere ea rappresentare in x in y nel tempo questa società è cresciuta tantissimo fino ad essere stata acquisita nel 2020 dalla ansys e allora è fondamentale sono le informazioni dei materiali e quindi il database dei materiali che trovate all'interno degli strumenti il database dei materiali granta è sostanzialmente ricopre praticamente tutto lo scibile dei materiali esistente e si struttura in macro famiglie anche nel granta selector voi oggi avrete la disponibilità di avere i materiali che ci sono di default e che si chiamano cordata e sono immagini agli universe il jam con data e mattina stata per simulation per ciascun sotto database io poi ho la descrizione specifica ma nella call di oggi viene bene parlo in maniera abbastanza veloce ma per farvi capire che cosa c'è dentro i materiali universe sono più di 4000 materiali che presentano loro data sheet all'interno di questo database il jam con data è un ulteriore database che presenta le curve dei materiali in funzione delle temperature quindi voi riuscite a trovare qui anche informazioni delle varie curve in funzione della temperatura e anche curve a fatica in materia data for simulation è un sotto database di adesso sono circa 2000 materiali che trovate qui dentro ma che potete trovare anche direttamente annegato dentro workbench come una library che trovate nell'ingegneria in data ovviamente va pagata nel senso va pagata a un costo molto limitato ma è una donna del workbench tutto quello che c'è dopo sono degli addon metalli polimeri compositi product risk medical aerospace additive poi l'esdu e l'eco sono degli addon che potete acquistare in più sono dei database aggiuntivi specificatamente dedicati alle famiglie di materiali che vedete qui o alle applicazioni industriali tipo medical aerospace e ai processi innovativi legati all'aditi ci sono delle dei trattini in questa slide che descrive quelle che sono quelli che sono i materiali disponibili i trattini sostanzialmente vanno ad isolare la licenziabilità di questi addoni in funzione del software granta che comprate quelli che vedete al di sotto di questo trattino sono licenziabili soltanto con il grant e mai il grant e mai è il plm dei materiali granta m ai sta per materiali intelligence ed è sostanzialmente il prodotto top di gamma insomma che propone granta e in questa demo specifica e nella promo che poi avete a disposizione per un mese noi ci andremo a focalizzare sul grant a selector quindi quello che vedete qui sotto non è disponibile io poi queste slide ve le posso anche girare così avete avete modo di riguardarvele con più calma perché comunque un'ora è un tempo abbastanza limitato qui ho la descrizione di tutto quello che si trovano nei database e una cosa che ho dimenticato di dire ciascun sotto database ha un profilo colorato in funzione del colore si riesce ad identificare qual è la sorgente dei dati inseriti all'interno del database ci possono essere dati generici dati dei supply e dati che derivano da testi laboratori eccetera eccetera quindi nell'esai successivo alla descrizione di quello che potete trovare e il cordata come vi dicevo sono più di 4000 materiali quelle che vedete qui è la prima mappa di ashby che è presente in questa presentazione in cui abbiamo rappresentato il cost per unit of strength e co2 footprint per unit of strength dei materiali inseriti nelle materie universe tutte le palline colorate che vedete non gli era molto semplice sono i materiali inseriti distribuiti in questo spazio rappresentato dalle grandezze messe nix e nix e nix e perché ci sono delle palle delle palle degli ovali e non dei punti questo sta alla base della teoria di ashby nel senso che il punto ce l'hai nel momento in cui tu identifichi una coordinata con un x e con un y in questo caso spesso nelle famiglie di materiali o nei materiali indicati abbiamo dei range degli intervalli all'interno del quale si muovono le varie proprietà da qui ne deriva ne consegue la forma oblunga ovalizzata di questi di questi punti nel jam crudata come vi dicevo abbiamo più di 5.000 materiali in cui abbiamo le curve in funzione delle temperature tutti questi diagrammi li potete esportare e quindi utilizzarli a vostro piacimento i data sheet che trovate dentro il grand class elector li potete esportare e importare dentro il vostro workbench e quindi poi sono dati direttamente accessibili all'interno dell'ambiente workbench trovate le curve a fatica e cosa non c'è sempre di facile individuazione e quindi questo è un ulteriore database che trovate di default nei programmi nei prodotti grande qua ci ho fatto un piccolo focus sull'advance material bundle legato l'additive manufacturing una tecnologia che sta prendo sempre più piedi ormai direi che abbastanza consolidata e grant ha dedicato all'additive un database specifico in cui avete non solo le informazioni dei materiali delle polveri formabili con i processi di additive ma anche tutta una serie di informazioni legate ai macchinari da additive e alle varie tecnologie additive è un anche questo un database piuttosto utile per chi lavora già con processi di additive l'advance material polimeri qua ci sono i numeri insomma per farvi capire quanto sono popolosi questi database però io andrei oltre l'integrazione diretta col workbench andrei oltre e cercherei di quella crescita classificazione le macro classificazioni delle famiglie dei materiali granta sono queste metalli polimeri elastomeri vetri ceramici e materiali ibridi e c'è ovviamente un'indicazione chiara anche della processabilità di questi materiali e quindi un'attenzione in termini di processi che sono divisi in primari e secondari la fusione è un processo primario tutti gli altri sono considerati processi secondari nei data sheet dentro granta un'informazione utile legata anche alla tipologia di processo con cui il materiale può essere formato quindi si hanno delle indicazioni chiare sulla processabilità dei materiali lo dico tra parentesi ma è importante e se voi adesso giocherete un po per un mese con il granta selector se voi dovesse acquistare il software escono tre barra quattro realisa l'anno perché un numero così alto di realismo e perché i dati inseriti all'interno dei database granta e presentano delle informazioni che possono subire delle variazioni nel tempo piuttosto importanti ve ne cito solo alcune il costo la compatibilità con le direttive vigenti esempio io ho dentro data sheet l'indicazione se quel materiale è compatibile con la direttiva rich roche o altre direttive e informazioni legate alla disponibilità del materiale e informazioni legate alla riciclabilità il contenuto di riciclabilità eccetera tutte queste informazioni possono subire delle variazioni nel tempo e quindi è necessario aggiornare i data sheet i database e quindi di conseguenza è importante fornire agli utilizzatori degli strumenti dei dati sempre aggiornati per questo e ne escono tra quattro reali esami cosa che mi aveva stupito quando ho visitato per la prima unica volta la granta poco prima del lockdown di due anni fa è stato che lì ci sono 20 ingegneri penso che nella platea degli auditori oggi siano bene o male tutti i tecnici 20 ingegneri che si dedicano solo a questo cioè all'aggiornamento delle informazioni dentro il database questo vuol dire quanta è l'attenzione a dare dei dati affidabili ma qui c'è una classificazione dei processi ma io andrei direttamente sul focus del della col di oggi e come vi dicevo le linee di prodotto sono tre in materia data for simulation questo database direttamente anerato dentro workbench il granta selector è quello che avete a disposizione il granta e mai e grande mai pro è il plm dei materiali e di cui farò veramente due parole al termine della presentazione cos'è il granta selector e poi andiamo a vederne anche alcuni casi il granta selector è uno strumento che voi potete installare stand alone sul vostro computer io adesso sono in smart working c'era installato sul mio portatile non sono necessari a aver particolari e quindi sostanzialmente potete lavorare singolarmente condividendo anche la licenza potete anche questa luna licenza e condividere in un team di lavoro probabilmente l'utilizzo può essere singolo non simultaneo dentro il granta selector ci sono le informazioni dei materiali che vi ho fatto vedere prima il cordata quindi materiali uniti se già in cui data e materiale data for simulation di default e poi vari add on in funzione di quello che vi serve però il database non è altro che la base del granta selector perché il granta selector non è un semplice strumento che mi consente di andare a cercare un materiale mi consente invece di costruire dei progetti per trovare delle alternative rispetto ai materiali che utilizzo quelli che vedete qua sono i tool dentro il granta selector che vi vado poi ad escrivere per farvi capire che cosa potete fare quindi l'enciclopedia di matizia data e database avete dentro tutte queste informazioni dei materiali potete creare delle mappe dentro granta selector che sono le famose mappe di ashby quindi potete costruire come come vi pare mettendo le grandezze che maggiormente vi interessano a questo punto potrete vedere i materiali come si distribuiscono nello spazio che avete definito tutto quello che trovate dentro il granta selector ve lo potete esportare quindi farete col tasto destro export tu esporterete nell'ambiente che vi serve anzi in primis c'è un tool che si chiama fine simila che vi consente di trovare il materiale più simile al materiale di normale produzione con il quale state lavorando vi faccio vedere poi anche questo c'è un altro tool che si chiama eco dit molto molto interessante perché che cosa fa mi fa costruire degli impatti cell mi fa quantificare gli impatti ambientali che sono prodotti dall'utilizzo di un materiale piuttosto che di un altro alternativo per realizzare il mio componente c'è poi l'integrazione diretta col workbench che cosa posso fare dentro il selector mi posso costruire appunto un progetto vado a capire quali sono le funzionalità i limiti e gli obiettivi del lavoro che sto seguendo quindi del componente che sto realizzando trasformo queste funzionalità questi limiti e questi obiettivi in parametri che io vado poi a caratterizzare dentro il selector e da questo progetto che costruisco mi vado a trovare il top candidate material cioè i materiali che sono candidati a sostituire quello che utilizzo oggi semplicemente costruendo un progettino dentro selector e andando a recuperare tutte le informazioni che io trovo proprio dentro il software poi comunque con degli esempi capirete meglio allora dicevamo che nel selector ho la possibilità di visualizzare le mappe di aspi ho questa funzione fine similar che mi fa trovare il materiale più simile a quello che ho e come dire l'indicazione della similitudine è rappresentata da una percentuale che si chiama nearness vicinanza e quindi più alte questa percentuale e più il materiale alternativo è vicino a quello di partenza questo è un pulsante dentro selector si chiama fine simile cliccate e vi viene fuori una tabella con queste percentuali questa è la come della metodologia per costruire progetti una volta che voi avete trovato dei materiali alternativi questo è comosissimo potete costruire una tabella di comparazione comparison table potete mettere sostanzialmente in colonna affiancati i valori dei data sheet di vari materiali e in righe avete le voce del data sheet potete mettere se non mi sbaglio fino a 15 colonne quindi 15 materiali col comparison table voi vi affiancate le varie proprietà e i vari materiali e quindi potete in maniera molto semplice leggere le differenze tra un materiale e l'altro il software quando voi fate questa comparison table fa anche un check basta che clicchiate c'è un pulsantino queste cose poi le vedremo quando lo utilizzerete cioè voi provate a impostarlo è veramente semplice e vedrete dal vivo tutto quello che vi sto raccontando e c'è questo c'è questo pulsante che si chiama sanity check cliccate su questo sanity check che cosa fa il software mi va a dividenziare qui non si vede bene perché è piccolo però vedete che ci sono delle casaline arancioni sostanzialmente con queste casaline arancioni il software mi va a dire quali sono le proprietà migliorative o quelle peggiorative rispetto a normal produzione quindi visualizzo velocemente anche le proprietà che mi come dire possono condizionare nella scelta perché sono migliorative o peggiorative e quindi poi staranno i progettisti capire se questi migliori o questi questi peggioramenti sono accettabili oppure no c'è un ulteriore tool che si chiama performance index finder che troverete nel momento in cui andata impostare un progetto di scelta di materiali alternativi che fa questo sostanzialmente io dentro il grante selecto non mi posso importare la geometria e sulla quale sto lavorando però posso andarmi ad identificare la geometria più simile ea quella sulla quale sto lavorando la geometria più simile anche le condizioni di carico più rappresentative e del mio componente in questo modo io sostanzialmente poi posso andare ad identificare e cosa che viene che viene fatta in automatico dal software degli indici di performance ovvero supponiamo di avere un cilindro che è sottoposto attrazione sulle due facce estreme e associata a questa geometria il software mi propone degli indici di performance che possono essere associati a vari aspetti io per esempio potrei cercare un indice di performance che mi consente di ottenere il massimo alleggerimento del mio componente a quel punto questo indice di performance viene individuato e io lo vado a minimizzare o massimizzare in funzione della tipologia di indice che ho scelto questo indice di performance poi viene rappresentato all'interno della mappa di aspetti che io ho definito e sostanzialmente non è altro che una retta inclinata in un certo modo al di sopra o di sotto della quale io ho i materiali che mi incrementano o mi riducono questo indice di performance quindi io riesco a fare una un'analisi veloce e visivamente molto di facile lettura anche di quella che può essere la risposta all'individuazione l'indice di performance c'è l'esportazione verso i fan e cad più diffusi commercio l'integrazione diretta verso l'ansys workbench c'è un tour che si chiama sintetizer che mi consente di costruire le proprietà rappresentative dei materiali compositi sempre molto difficile trovare le proprietà dei compositi qui riusciamo ad avere una prima indicazione andando ad imporre le proprietà delle bulk e delle cariche io ci sottolineo perché insomma mi sono trovato a doverlo utilizzare sono proprietà rappresentative poi è indispensabile nel momento in cui si decide di entrare in produzione con un certo materiale composito avere data sheet del fornitore o farsi fare delle caratterizzazioni ad hoc però in una fase preliminare di scelta questo è uno strumento comunque utile il tool di eco audit come vi dicevo prima e mi fa sostanzialmente partendo dalla materia prima mi considera le varie fasi del ciclo vita del mio prodotto quindi dall'estrazione dalla lavorazione dal trasporto la lavorazione la fase d'uso la fase di fine vita mi dà gli impatti ambientali generati dalla scelta di un materiale piuttosto che di un altro materiale dentro i data sheet dei materiali voi avete di default sempre su tutti i materiali le informazioni legate alla primary energy e alla co2 mission per l'estrazione della materia prima e poi avete in funzione del processo di lavorazione anche le energie richieste per la lavorazione dei materiali stessi quindi già dentro data sheet voi avete tantissime informazioni che sono necessarie per fare delle discriminazioni da un punto di vista ambientale tra materiale l'altro oltre che come vi ho accennato le compatibilità con le normative vigenti prevalentemente a livello europa le rich e le roche gli eco di tool hanno senso non so se sono dei temi che conoscete nel momento in cui noi facciamo delle comparazioni perché avere degli istogrammi dei vari impatti ambientali così in senso senza avere un confronto non è che ci dicano molto è importante sempre confrontare gli impatti generati da materiali diversi per capire quali sono quelli che da un punto di vista ambientale sono più o meno impattanti c'è la possibilità di fare delle ricerche per parole chiave quindi potete mettere un materiale oppure la ricerca di una proprietà specifica mettendo il nome della della proprietà della caratteristica e scusate se va assalto da un po da una cosa all'altra però parlando mi vengono in mente anche alcune cose che vi potrebbero servire quando poi lavorerete le nomenclature dei materiali potrebbe essere che voi abbiate una nomenclatura con nomenclatura americana avete bisogno di una nomenclatura europea dentro il data sheet la prima il primo estratto del data scelta per collegato alle nomenclature quindi voi riuscite a risalire alle varie nomenclature e poi conseguentemente alla composizione c'è un tool nuovo che si chiama batteri designer tool che serve per la progettazione delle batterie essendo l'ibrido ed elettrico sempre più diffuso e grant ha deciso di introdurre anche questo tool dando tantissime informazioni proprio sulle sui pacchi batteria l'engineering solver cosa fa sostanzialmente trasforma delle delle risposte a delle sollecitazioni in proprietà meccaniche quindi se io ho una trave ancorata e ho il carico e la freccia riesco a trasformare con l'engineering solver queste 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 indicazioni queste proprietà in sigma y young eccetera alla fine mi farvi fate un bel report di selezione finale che si chiama selection report comodissimo per la condivisione interna dei lavori fatti in cui avete tutti gli step che avete impostato nel vostro progetto lo potete estrarre sia in pdf che in word e condividerlo mandandolo semplicemente via mail al vostro responsabile alla nostra politica le mappe di ashby allora scusate la bruttezza di queste immagini ma vengono dal sono degli estratti da uno dei libri del professor ashby e ce ne sono di tanti tipi ci sono le bar chart in cui voi vedete la distribuzione dei materiali come barrette oppure le bubble chart che diventano proprio delle degli ovali nelle mappe le queste in queste slide sono descritte le mappe di altri più più utilizzate densità verso il modulo di young la densità verso la rigidezza oppure la strength verso il modulo di young eccetera ce ne sono tantissime potete costruire come volete quelle che vedete tratteggiate sono quei famosi performance index di cui parlavamo prima e quindi sostanzialmente quello che vedete poi rappresentato è lo spazio dei materiali che avete a disposizione io poi queste ve le lascio il file similar adesso faccia proprio la descrizione che io vi ho fatto a voce dei vari dei tool quindi li passiamo velocemente performance index queste sono alcune delle geometrie rappresentative che potete trovare per individuare poi per far una single ma sono veramente solo alcune ce ne sono se non ne sbaglio 50 dentro il software le sintetizer tool l'eco di tool per l'estimazione per la valutazione degli impatti ambientali ingegneri in solver a un questo non ve ne ho non c'era ancora slide il part cost estimator comodo anche questo perché perché praticamente con questo riuscite ad avere una prima indicazione del costo del vostro componente da dove deriva questa indicazione di costo dal costo della materia prima dal costo del processo di lavorazione perché abbiamo delle indicazioni anche economiche legate ai processi di lavorazione e dai volumi produttivi quindi noi andiamo a mettere delle indicazioni sui volumi produttivi e abbiamo una valore economico di quello che può essere il costo finale del componente quindi anche questo in fase preliminare di valutazione direi che è una discriminante importante perché riusciamo ad avere anche un'indicazione di quello che sarà il prodotto finito e anche questo è un tool che avete annegato dentro la licenza base e le uniche cose in più che avete nelle licenze avanzate sono gli addons sui materiali quindi quelle macro famiglia che vi ho fatto vedere prima polimeri metalli compositi aglio space eccetera batteri design tool ok adesso iniziamo con alcuni esempi così capiato capite un po' meglio bicchiere di plastica quali sono i requirements deve contenere bevande sia calde che fredde deve essere trasparente quindi è a contatto con cibo quindi deve avere un food grade che sia dentro granta lo trovate il food grade con un flag verde se è compatibile oppure una x rossa se non lo è deve essere resistente all'acqua al vino ronald juiz deve deve resistere anche ad avere al suo interno bevande calde come dicevamo deve essere realizzato con termoforum matura un gestion molding e deve dobbiamo massimizzare la rigidezza e minimizzare il costo questi erano i nostri obiettivi i nostri constraint vincoli i nostri obiettivi massimizzare la rigidezza e minimizzare il costo come vedete i vari constraint vengono classificati in funzione della tipologia di constraint abbiamo imposto quindi estetici e legate alla alle normative quindi non mi viene la parola in italiano comunque alle normative quindi il fatto che sia compatibile col cibo e l'utilizzo quindi vincoli legati all'utilizzo quindi all'in service environment si chiama dentro granta alla processabilità e poi questi qua sono gli obiettivi di performance e di costo cosa si fa si trasferiscono queste indicazioni dentro il selector quindi c'è la possibilità appunto di trasformarli in proprietà che trovate dentro il data sheet constrain quindi troverete il food water contact transparent resistant to water fruit juice wine questi sono trasfitto trasformati in weak acids resistant hot boiling water impostiamo una temperatura 95 gradi e poi la rivolabilità manufactured by thermo forming ingestion molding tutto questo lo trovate dentro il selector cioè voi potete scrivere queste cose qui nel momento in cui costruite il progetto obiettivi massimizzare la fessura stiffness e minimizzare il costo qual è il materiale ottimale si costruisce una mappa di ashby in cui noi avevamo messo in questo caso la densità verso il modulo di young e vediamo come si distribuiscono i vari materiali imponendo i vari vincoli che sono qui rappresentati piano piano questi materiali vanno ad escludersi perché ce ne sono alcuni che ovviamente non soddisferanno tutte questi requisiti rimarranno soltanto alcuni candidati che saranno quelli che soddisfranno questi requisiti tra i quali noi potremmo scegliere step successivo è la possibilità di rappresentarsi un ulteriore mappa nella quale noi mettiamo il cost per unit of stiffness per esempio e quello che andremo a fare a cercare di minimizzare questo valore quindi sceglieremo i materiali che lungo questo nuova mappa di aspi sono più vicini allo zero della 6 un altro esempio braccetto oscillante automotive era realizzato questo inizialmente in pia 66 30 per cento glass fiber e doveva trovare un'alternativa perché il costo del materiale era aumentato tantissimo ed è questo un tema abbastanza di attualità perché abbiamo per vari motivi subito degli incrementi dei materiali alle volte non proprio giustificati ma che mettono in difficoltà poi chi deve produrre quindi cosa abbiamo fatto qual è l'alternativa che mi consente al minimo incremento di costo dove trovo i polimeri dove trovo i figli dati e da dove comincio comincio dai requirements del materiale di normal produzione quindi mi vado a cercare il pia 66 caricato fibra vetro e vado a vedere il suo data sheet qui c'erano semplicemente alcune informazioni del data sheet e una richiesta del del cliente era che il materiale fosse formabile con ingestion molding perché non volevano fare degli investimenti ulteriori gli stampi nuovi e quindi doveva essere non solo formabile ingestion molding ma anche doveva avere dei coefficienti di ritiro che fossero confrontabili a quelli del pia 66 30 per cento glass fiber e appunto per poter recuperare gli stampi già in uso questa è l'interfaccia del granta selector tutto quello che vedrete colorato saranno i database che avete abilitati tutti quelli grigetti sono quelli in più che poi andrebbero acquistati con delle licenze ad hoc con degli add-on specifici si cerca il materiale di partenza che questo pia 66 in questo caso questo è solo un estratto del data sheet vedete qui l'indicazione di prezzo di cui parlavo prima le energie primarie la co2 la water emission per la situazione del materiale e quindi solo soltanto un estratto alla compatibilità con le con quelle direttive eccetera eccetera questo diventa il reference quindi noi imponiamo un riferimento che a questo qui il materiale di partenza ci costruiamo la mappa di ashby in cui abbiamo messo il prezzo per unità di volume e il modulo a flessione quella in giallo è il materiale di partenza tutte le palline che vedete intorno sono tutti polimeri dentro il database granta e vi ho già spiegato perché alcuni non sono punti ma sono degli ovali facciamo i primi filtri il primo filtro è sul processo abbiamo detto che deve essere iniettabile quindi vuol dire che il materiale deve essere necessariamente un termoplastico quindi io nel posso impostare delle condizioni partendo dall'albero del process universe guardate veramente più difficile raccontarlo che farlo dopo quindi spero che non vi spaventiate termoplastico io impongo questo process universe shaping mold injection standard termoplastico quindi dico deve essere un iniettabile termoplastico vedete che ci sono dei materiali che diventano grigi questi non sono termoplastici e non sono iniettabili sono dei termo indurenti quindi questi hanno fallito l'obiettivo ora poniamo altre condizioni l'impasto deve essere come minimo 65 chilo joule su metro quadro quando voi costruite i limiti è interessante vedere che riuscite ad avere le indicazioni dei range all'interno del quale si muovono i materiali di partenza quindi il pia 66 caricato fibra vedo al 30 per cento è il reference e qui vedo i valori delle varie proprietà che sto andando poi ad andare ad identificare quindi io gli do un impastare minimo di 65 queste erano delle condizioni che ci aveva posto proprio il cliente un assorbimento d'acqua nelle 24 ore doveva essere come massimo lo 0 2 per cento come vedete ponendo queste ulteriori due condizioni o il campo d'azione che si restringe un sacco perché tantissimi materiali diventano grigi perché hanno fallito l'obiettivo quindi andiamo avanti ora che cosa facciamo ci focalizziamo sui materiali quelli che costano meno e quindi quelli posizionati verso i valori inferiori dell'asse delle x rimanevano fuori rimanevano insomma tra le scelte il ptt 30 per cento grass fiber di polipropilene 50 per cento long glass fiber e il pbt 30 per cento grass fiber che sono i candidati ottimali ci costruiamo la tabella di comparazione faccia schiacciamo il pulsantino sanity check come vedete col sanity check le proprietà che sono migliorative o peggiorative vengono evidenziate con questo arancione poi sta a noi capire se quelle migliorative o quelle peggiorative sono un problema oppure no lo step successivo a sport esportarci in ansys il data sheet di questi tre materiali e farci un calcolo fermo per vedere quello che garantisce le performance migliori quindi in pochi minuti voi comunque avete identificato tre alternative che vi possono essere utili per portare avanti il vostro progetto un altro esempio questo albero di trasmissione automotive in in un loro stile una isi 61 50 la geometria rappresentativa è questo shaft intorsion quindi questo cilindro intorsione e in cui io posso dare come free come libero il valore dell'area di sezione della section area proprio perché l'obiettivo è l'alleggerimento quindi io cercherò di trovare il valore adeguato per ottenere poi la geometria il più alleggerita possibile qui ci sono i constraints i vincoli quindi una rigidezza adeguata il range di temperatura a cui deve sottostare questo componente del meno 40 e più 225 gradi deve essere resistente all'acqua salata e devo ridurre evitare i problemi legati alle risonanze e ho dei consegni legati al production volume quindi io devo trovare anche un materiale che mi consente di raggiungere determinati volumi produttivi obiettivo minimizzare la massa minimizzare il costo allora gli step che voi dovete seguire nel momento in cui imposterete dei progetti sono sempre quelli identificare la geometria rappresentativa identificare i vincoli e identificare i nostri obiettivi quindi si costruisce una mappa di ashby in cui mettiamo densità e modulo di young e poi imponendo i vincoli vediamo che si riescono a trovare delle alternative velocemente che sono dei carbon reinforced che consentono addirittura degli alleggerimenti del 70 per cento delle frequenze dissonanza superiori rispetto alla np tre volte e quindi con center consentirebbero di avere un allungamento della vita utile del dell'albero e queste sono le mappe che poi ci siamo costruiti successivamente per adottare ad identificare le grandezze che poi abbiamo posto come obiettivi un altro esempio valvola farfalla materiale normal produzione un ottone rame zinco 30 e la geometria rappresentativa è un pannello caricato in questo modo l'identificazione è il panel o di in bandi che tra le geometrie rappresentative dentro il granta e il constraint sono la processabilità con formativo la lamiera o fusione reggi temperatura qui deve sottostare il componente del meno 40 e più 190 deve resistere al salt water all'oil al fuel gli obiettivi sono minimizzare la massa minimizzare i costi anche qui si lavora con le mappe di ashby una delle più utili date sempre la densità verso il modulo di young e le mappe successive che c'erano fatti era il costo per le unità di rigidezza e la massa per unità di rigidezza e qui si identificavano come alternative il pps 60 per cento da sfiber che consentiva una riduzione peso del 60 per cento e una riduzione del costo della materia prima del 25 per cento oltre ad una riduzione del 1,7 per cento dello spessore del componente e mi sembra che sia l'ultimo questo qui che vi faccio vedere per non annoiarvi comunque poi le slide delle lascio e questo instrument panel sempre automotive il materiale corrente è un abs policarbonato in questo caso è un panello di team bending anche qui i vincoli è un allungamento maggiore del 100 per cento rigidezza adeguata temperatura range del meno 20 e più 105 e essendo molto particolare la forma del componente deve essere processabile con processone e nt shape ovvero uno di quei processi che consente e più di altri la realizzazione di geometri complesse senza necessità di avere lavorazioni successive così sono i processi di ammett c'è obiettivo sempre in questi casi minimizzare la massa e costi questo è uno degli obiettivi più comuni qual è il materiale ottimale gli scenari erano legati al fatto anche che l'azienda era molto molto vincolata ai loro e quindi c'erano dei grossi limiti nella possibilità di fare delle scelte alternative però era importante farle per ridurre il peso e per raggiungere di target di eco e chiamiamone ambientali più stringenti il carnet materiale era una lega a 332 con trattamento t6 e il componente viene rappresentato da un bimlo di di bending come rappresentato qui la geometria il constraint la rigida deve essere maggiore di 12 giga fa la temperatura e range d'uso ed è meno 40 e più 100 deve essere anche questa resistenza salt vuota l'allora del suel e il near the shape volume production è una condizione importante vista la complessità della geometria minimizzare il masso la massa il costo e questa è la prima mappa di ashby i risultati ci avevano portato a scegliere come alternativa un pia 66 per cento da spider che consentiva il 45 per cento di riduzione del pezzo c'è anche la possibilità dentro il selector di identificare i fornitori dei materiali alternativi questa è una cosa che non vi avevo ancora detto perché all'interno della tascita avete anche una dei link ai fornitori dei materiali in funzione anche del paese in cui voi dovete andare a produrre e anche questa direi che è un'informazione assolutamente importante io per il granta selector come casi e come descrizione avrei concluso vi faccio solo un focus velocissimo per dirvi anche quello che potete trovare poi nel nel prodotto di top top di gamma del granta che è il plm dei materiali i plm sono i plm sa per prodotto life cycle management i plm sono di tanti tipi e winchill team center sap sono plm più noti però sono dedicati specificatamente a cose diverse e nessuno aveva mai pensato a creare un plm dei materiali ci ha pensato granta il suo plm si integra con tutti i plm più noti sul con me in commercio alcuni di quelli che vi ho già citato però è dedicato solo ai materiali quindi dentro il plm granta ci sono le informazioni di tutto lo scibio dei materiali granta e le informazioni proprietarie o comunque maggiormente utilizzate dalle aziende quindi qual è la comodità dell'aver un plm è che tutti in azienda pescano i dati dei materiali della stessa sorgente dalla stessa fonte la chiamano la fonte d'oro e quindi non si perde tempo a far fare caratterizzazione di materiali che può aver già fatto un collega in un altro stabilimento a passarsi informazioni via mail tra il cadista o la nella lista femme tra l'analista fame coloro che si occupano di qualità tutti hanno subito la fotografia chiara di qual è l'associazione della distinta base con i materiali scelti cosa utilissima è che si possono creare le abilitazioni specifiche in funzione anche del progetto che si segue ma una cosa veramente interessante è che se io mi creo una distinta base pescando i materiali dal plm dei materiali granta o comunque da un plm dei materiali ma in commercio di se solo quello di granta dal benchmark che avevo fatto sostanzialmente creando una distinta base con queste associazioni io riesco ad avere in tempo reale un excel che mi dice se le varie righe della distinta base sono compatibili con le direttive di mio interesse in funzione del paese in cui vado a commercializzare il prodotto quindi avrò in righe le righe della distinta base in colonne le normative di mio interesse in normativa legata alle sostanze pericolose vigente in giappone e mi dice delle varie righe della distinta base quali sono i materiali in funzione del peso ovviamente associato al componente che mi soddisfano meno la direttiva vigente se io ho delle x rosse vuol dire che non è soddisfatta a quel punto dovrò tornare indietro lavorare sul materiale associato a quella riga della distinta base per trovarne un alternativo che mi consenta di soddisfare i requisiti imposti delle direttive questa cosa qui fatta in azienda da fare in azienda è difficilissimo se si usano degli strumenti come i plm dei materiali granta lo sia in tempo reale ed è uno dei valori aggiunti più importanti nell'utilizzo di un plm dei materiali poi c'è qui c'è un video che vi fa vedere come funziona qua ci sono lo vede questi sono degli come dire testimonia di successo degli strumenti granta royce general motor sono grossissimi clienti granta da anni tutti gli strumenti granta e plm di cui vi ho parlato sono integrabili con il cae e il card plm più diffusi sul mercato questi sono solo alcuni dei clienti granta sta prendendo molto piede negli ultimi due anni nel biomedicale c'è un'azienda che produce mascherine purtroppo che ha avuto il boom economico in questi due anni per il cobit che lavora su grana con granta da anni per trovare i materiali per realizzare le proprie mascherine filtranti che siano ecocompatibili pensate ai rifiuti che abbiamo generato in questi due anni nell'utilizzo delle mascherine quindi come vedete c'è veramente trasversale come tecnologia utilizzate in tantissimi ambiti diversi allora ultimo recap sulla promo avete per 30 giorni se vi interessa ovviamente a termine di questa call e attivarla la possibilità di avere la traglia gratuiti dell'ansys granta selector al seguito di questa 30 giorni c'è la possibilità poi con i nostri commerciali di fare delle valutazioni assolutamente convenienti per l'acquisto c'è proprio una promo anche legata al costo d'acquisto in questo mese di utilizzo io vi supporto cioè voi mi scrivete noi proviamo a lavorare insieme apriamo un progetto insieme ci provate voi poi lo guardiamo insieme io sono a disposizione basta che voi mi scriviate un email e poi ci organizziamo e per l'attivazione della licenza scrivetemi a seguito di questo webinar ditemi sì voglio attivarlo no non voglio attivarlo la nostra segreteria commerciale vi manderà un modulo dei dati macchina per generare la licenza a quel punto una volta ricevuto il modulo venire avrà generato la licenza e dal giorno 1 di attivazione avete 30 giorni per utilizzarla spero di essere stata abbastanza esaustiva e io per ora ho concluso